Musica Bello a tutti ragazzi, qui è Ronny e noi siamo insieme a Maynadex, ciao a tutti ragazzi Siamo nell'ottavo episodio della Ronnydex Vi facciamo vedere sopra Ah ragazzi, nello scorso video non... Aspetta, metti un attimo in pausa Ok, scusate il taglio Scusate il taglio perché mi ho ripreso ora, ecco Vabbè, non vi abbiamo fatto vedere nello scorso episodio che abbiamo fatto ste due casette Sti due piani della casa dove metterò molti macchinari E abbiamo fatto off camera questa struttura dove... L'abbiamo fatta nello scorso video off camera Il generatore di lava C'è di lava, di cobblestone Di cobblestone, con appunto acqua e lava Perché in questo episodio faremo il cobblestone infinita Appunto E ci serviranno... E il timer che poi, vabbè E poi faremo anche il generatore di diamante che tanto ne avremo abbastanza di cobblestone A voglia Quindi, io faccio la clay Perché io faccio la clay Appunto, io faccio i piccoli di faro intanto Ehm... non si servono i piccoli di ferro Nel block breaker, sì Ah, è vero, fanne dieci Dieci? Sì, dieci block breaker Allora, io faccio il timer, tu fai il block breaker Ok ragazzi, comunque vi ricordiamo sempre di passare da tutti, da tutti i due canali Perché ovviamente facciamo cose, tipo io faccio per esempio, faccio i piccoli, lui fa il timer Quindi se voi volete vedere il crafting del timer, dovete andare a vedere il suo video appunto Così almeno vedete tutte le grafiche Appunto, comunque allora io faccio un po' di stick Ehm... ok Ok What does the fuck say? Non abbiamo più silver Possibile? Ah no, ce l'abbiamo per fortuna sei pezzi Perché è importante ci serve Magari qualcuno da posso scavare di conoscere Non ti vendere mai niente tu perché serve tutto, cazzo 8, 9 Allora, ragazzi, adesso con questi, prima li faccio imparare Prima di tutto 8, 10 piccoli Mi faccio imparare Lascieli nella... Nella project Sì E intanto faccio la recite delle block breaker ss Serve la cobblast, il giusto, sì Così Eh, devo fare dei pistoli per aspettate un attimo No, no, levati Aspetta, lasciami un attimo qua Ok, ho fatto l'alloy fornace Adesso vi faccio vedere cosa serve Non me l'ha fatto neanche vedere Eh beh, si sono con i blocchi di... Solo con i blocchi di... Eh, metti la mette alla project così la vedo Eh sì, ormè l'ho piastata a terra Dov'è? Di fianco alla crafting Ma perché vedo tipo oscuro qua? Eh, dove? Qui E va bene una torcia? Ok, quella vedo bene Allora, mettiamo così Allora, fornace È così, è così È così Eh, si fa il bronze, giusto? Aspetta, sbagliato No, devo fare il brass Ah, ok, perfetto Quindi si fa il brass Perfetto, allora Abbiamo... Beh, per forza abbiamo la cobblast Possibile non avere cobblast Allora, eh, così Le facciamo per la... Però abbiamo poca, oh Eh? Per me abbiamo così poco a poco Beh, sono giustamente Io l'ho venduto un bel po' Non vendere solo minerali Che ci serviranno A meno che per me ne abbiamo tanti, tanti No, a me i minerali non li vendo Al massimo lì tipo lo vende E poi me lo ripendo giusto Per insegnarlo Allora, red Ma non devi venderlo per insegnarla Basta che lo metti... Sì, sì, lo so L'ho imparato, l'ho imparato poco Vabbè Ferro Anzi no, copper va benissimo Copper è questo Così, giusto? No, no, mi sa che vanno invertiti Appunto Pistone E devo fare altri, vaffanculo Eh, ok A me serve il vetro, quindi per il vetro Abbiamo sabbia? L'ho perfetto Eh, sì, un po' Abbiamo direttamente il vetro, quindi Facciamo così faccio Imparare il vetro Menomani, minchia, giusti li ho fatti Scusa una cosa Eh Col Vance's Dust Che cazzo ha? Eh, ci servirà per fare... Beh, adesso non lascio stare Però servirà più avanti Te lo faccio vedere poi Questo era... Per fare il coso Come si dice? Hai fatto i cosi il Redstone La cosa Sì, ne do fare ancora Le fiebre di Goblet Sì, guarda All'alloy fornace Si fa così il lingotto di Redstone Copper Redstone Copper Redstone Copper Redstone Fa questi lingotti E poi con tre lingotti E poi con tre lingotti Li metti qua per così, guarda Io... Le vede questi Aspetta Mi fai 12 di questo Perfetto Comunque io sto a fare il coso, i block breakers Ok, falli Block, un attimo che... Qua serve per fare il block? Ok Fai vedere crafting e l'ho appena fitto sulla cosa Io metto a cuocere No 1,2,3,4,5,6,7 Oddio, ho fitto, ho fitto, mi servono... mi serve Cobblestone Ah, vai, te l'ho appoggiata qua Eh, sì, è stata una cosa che mi manca anche Il legno No No E hai piccoli... i piccoli? Serio? Quante ne fatti i piccoli? 10 Bisogna diventare un piccoli di diamante Non so per qua Bravo, bra Cintone No, di fatto intendo della... Dalla transmutation Ok, comunque ho fatto i 10 block breaker, perfetto Ah, beh, li hai fatti E allora, adesso io faccio Guarda, fai vedere... Nella... cosa Allora, sei brazzi I brazzi I brazzi si fa con... Copper, il tin Copper, il tin E con il vetro fai i pneumatic tube I pneumatic tube Menchia quanti? 48 Beh, mettiamo posto qui da cosa Sì Adesso manca solo il timer Eh, il timer dobbiamo smeltare la stonna Sono un guaio L'ho già fatto, l'ho messo a cuocere Perfetto, e dov'è che l'hai messo? A cuocere Capito Eh, però aspetta il timer è un po' anugioso da fare Eh, allora Eh, quanti ne servono? No, al timer lo faccio giù un attimo Vabbè, il timer è 1 e 1 Eh, no, intendo di questi Eh, di timer 1 Ah, i stonewaffer Aspetta Allora, per fare questo Uno di questi è una torcia di redstone Lo faccio subito Sì, aspetta Eh Timer Che cazzo faccio, sono un coglione Allora, siamo due stonewaffer, poi tre stonewire Allora, questo l'ho fatto Vieni qua, nelle Aspetta un attimo Gli stonewire, sono delle cavolate Poi Dei file 2 stone anode Che sono Sono 4 redstone e 3 buffer Ho già fatto, tranquillo E il timer già hai fatto? No, sto facendo questo Eh, in due normali e poi questo qui con una stone L'ho fatto, tranquillo Non so, intanto io ricomincio a piazzare qua No, no, aspetta Eh, uno di questo Eh, una stone Non mi basso Mettila sopra Sotto Cioè qua Sopra mettila No, qua Porca caglia La stone sopra Ok Ok, questo qui Questo qua Questo così Due di questi E sotto questo qui che c'ho io Perfetto Abbiamo fatto il timer Perfetto E c'è avanzato anche uno stone anode Perfetto Adesso L'ultima cosa ci serve Ovvero? Eh, l'energy condenser L'energy condenser? Cos'è che faceva? Che non mi ricordo No, l'energy Eh, l'energy L'energy Mi pare di sì Condenser Si, l'energy condenser Oh, cazzo Obsidian Quattro diamanti E' l'Archemic chest Che porca puttana No, dai, lo facciamo poi No, ci serve per forza però Allora, la col Allora, la col La col La col La col La faccio io che poco fa Per sbaglio l'ho imparato Vabbè, dai, io vado a posizionare sopra la roba Tu fai quella Eh, ma micchia, grazie E' uno che non le spaventano Dai, vieni Lo so, lo facciamo dopo Anzi, no, facciamo la nostra cosa Facciamolo subito, così facciamo tutto Facciamo tutto subito Infatti, allora serve Allora Redstone Aspettiamo Quattro diamanti E' quattro di questi Cinque diamanti Perché ne saremo anche uno per l'alchemic chest Eh, fallo tu Eh, aspetta, perché qua Oddio, un attimo Io questi qui li metto qui per fare quello Metti un diamante Allora Uno di questi Perché me ne da quaranta Si Porca troia Prendine uno Poi serve Come, non ne posso prendere uno Devo prendere per fatta quaranta Si Eh, no, perché servono anche per altro Poi un diamante e un carbone Minchia Io faccio la cesta intanto E' la cesta intanto E' la cesta intorno Ti sto dando una mano anch'io Poi questa qua invece è Coblessone e' un coal Hai già fatto la cesta? No, la devo Ti sto giocando a farlo però Facciamo quella verde Devi darmi un coal qua sotto Eh, non ce l'ho No, un carchicol Beh, intanto mi arrivano chiamate da Skype Mi senti buono Mi ha fatto il suono Mi ha fatto il suono da Skype Non so perché Mi dai un coal, cazzo E' un carchicol Non ce l'ho Carchicol Serve il carchicol Ah no, no, una cazzata Si, lo faccio subito, scherzo Lo fai con la philosopher Che coglione Aspetta Una philosopher e un carbone Fa quattro carchicol E lo mettiamo qua E lo mettiamo qua 40 Covalent dust E lo mettiamo lì Poi serve E' un carbone E' un diamante E' un carbone E' un diamante E' un carbone E' un diamante che lo faccio subito io Un carbone E' un Mi sta impazzendo Skype Fai una cesta? Una cesto? Un quale legno Allora Poi serve stone Ah boh, faccilicelo qua E' legno tu? E' legno tu? E' otto di legno E' due stone Perfetto abbiamo tutto Vieni qua E' aspetti Fai la cesto E' la cesta Cesta fatta Cesta fatta Poi mettiamo Questo qui Cesta qua sotto E' lì E' lì E' tolico subito Ah un diamante Ah un diamante Mazza quanto cazzo costi Di mortaci tuo Dove mettere il diamante? E' io non ce l'ho Lo metto io E' no abbiamo sbagliato Perfetto Alchemical cesto La faccio imparare Aspetta Così in meno Aspetta io mi sto pieno Mi sto pieno qualche diamante Ho preso 5 diamanti Perché ho meno 2023 Ehm 24 cosa Si vede che si è buggato Vabbè ho venduto un diamante Comunque ho preso 4 diamanti Voi adesso Così No no ce li ho io per ora Va tranquillo No vanno sopra Vanno così Non in questi lati No all'opsidian No l'opsidian è ai lati E' il contrario Si l'ho visto adesso L'opsidian va qua Porca droga Aspetta Sto laggando come lo schifo No perchè sono io che sto cliccando Così oh fatta Facciamola imparare tutte e due Mettila lì E passa Perfetto Lo faccio imparare anch'io Perchè questi ne serviranno Ne serviranno tanto Si deve mettere al centro Dall'altro lato E poi si mette il clean star di qua giusto? Non devi mettere il clean star per farlo imparare Appoggialo sulla sinistra e basta Aspetta un secondo allora cosa hai detto? Appoggialo sul cerchio di sinistra in uno di quei buchi Ok perfetto Ok perfetto Ok perfetto Passamelo Fate imparare Vabbè Te l'ho lanciata Non ce l'ho Io l'ho lanciata eh Eh raga si è bugato tutto e la riprendiamo con la creativa C'ho la ney giustamente No no non la posso buttare nella ney Io non sono incitivo Vabbè ragazzi Me la son chivata e l'abbiamo persa Vabbè avete visto che l'abbiamo fatta quindi Minchia se l'hanno visto Allora ehm Una cesta per le polverine le mettiamo qua Se quelle polverine le Si ma muoviti che l'hai bisogno sapendo Muoviti perchè l'hai stato bisogno e starà bello lungo Dai ok intanto l'abbiamo così fatto I block breaker ce l'hai tu? Eh si no 10 Ah no 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 Solo un cacciavite devo fare boh Eh muovite Beh cacciavite mettiamo un pezzo così Quindi boh fatto Allora saliamo sopra Allora i block breaker come cavolo li piazziamo E piazzalo Mettere tutto sopra Si un secondo che io laggo se com'è Per girarli Hop 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 Vai Eh un attimo sto laggando Non capita mai vero? Vai vai Strano che capita Serio? Perfetto Perfetto Le abbiamo girate adesso Mettiamo i pneumatic tube qua Questi che serve per far uscire la coble se nob Tu lo sai no? Si si certo Si si certo cosa vuol dire? Ma certo lo so E' obbligo che lo so Ehm Ehm Poi Ah è vero non ci sono i barrel qui E' nel light che ci sono i barrel Infatti Vieni qua Ehm dove? Ah le facciamo arrivare direttamente all'alchemic chest Questo? Si Questa cesta vedi a sinistra in alto puoi mettere un oggetto Si Eh se tu Tutti gli oggetti che vanno dentro vanno in mezzo E invece a sinistra e in alto a sinistra metti l'oggetto che vuoi duplicare E la cobblestone che entra qui dentro si brucia e diventano piano piano quell'oggetto In base ai punti sai Ah perfetto ok Quindi in teoria questo è per far diamanti Si Adesso ti faccio vedere Però sarebbe anche carino un po' di cobblestone mettesse la Ah ovviamente tu metti il wire I cavi Con un bel timer Il timer che abbiamo fatto qui E lo facciamo di un secondo Guarda Guarda la cobblestone che entra Poi tipo guarda ti faccio un esempio Metto un bastoncino in alto a sinistra E tutti diventano bastoncini Visto? Si ho visto Quindi se noi mettiamo il diamante piano piano quello si metta a fare diamanti Però vabbè ci vuole un po' Vabbè comunque se Mentre siamo con camera lo vogliamo velocizzare Perché mentre si registra meglio non rischiare Beh non vorrei fare cadere il server Però lo lasciamo un secondo e va benissimo Si appunto quindi Lo lasciamo qui Appunto quindi ragazzi direi che per questo video è tutto Avete visto che comunque C'è già due stack Tre stack abbiamo fatto quindi Perfetto Quindi ragazzi per questo video è tutto Un saluto da Miladex e da Ronnyman Ci vediamo nel prossimo video Mettete like Ciao Passate dai canali Bella Ciao Ciao